Da dove è venita? Noi veniamo da Palermo e siamo un gruppo di persone sorde udenti che siamo venute qui per vedere Castelbuono. In quanti siete? Tutti siamo 34 persone, questi che sono ci sono più o meno 10 persone sorde udenti. Vi state divertendo? Cosa avete visto di buono? Ci stiamo divertendo! Sì!